Risate assicurate domani sera alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Il Giardino delle Muse porterà in scena la commedia Allacciare le cinture di sicurezza del trio Anna Marchesini, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. La commedia sarà diretta ed interpretata da Ersilia Spadea, Daniele Mezzasalma e Davide Bonincontro. L'iniziativa è patrocinata dal Comune. Abbiamo scelto di rappresentare questa commedia brillante Allacciare le cinture di sicurezza per ricordare Anna Marchesini che ci ha lasciato poco più di un mese fa perché comunque siamo cresciuti, almeno io personalmente sono cresciuta con le loro gag teatrali e televisive. L'ingresso è completamente gratuito e lo spettacolo si terrà al Teatro Eschilo alle ore 21 giorno 16 settembre, cioè domani. Avete lavorato tanto per questa iniziativa? Abbastanza, abbiamo lavorato abbastanza, molto duramente. Nel nostro piccolo, insomma, stiamo tentando di divertire la gente così come facevano loro, il trio. Sono tante le iniziative vesse in campo dal Giardino delle Muse di Gela. A dicembre abbiamo fatto uno spettacolo basato su A Christmas Carol di Dickens, in canto di Natale, lo abbiamo portato, lo riproporremo anche quest'anno, sempre per le festività natalizie. Abbiamo portato anche uno spettacolo di Shakespeare, con una versione modificata, più sicilianizzante, perché appunto c'è questa versione che si dice che Shakespeare sia in realtà siciliano. Poi comunque siamo molto attivi nel campo sia teatrale che nel campo musicale, abbiamo anche altri eventi, insomma ci diamo da fare. Sì, sì, sì.